Molte conferme e una new entry per i candidati che la Lega ha deciso di schierare a Milano per le elezioni del 25 settembre che sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa. Alla Camera sono ricandidati gli uscenti Laura Ravetto, Igor Riezzi e Federica Zanella, mentre al Senato a Milano, oltre al leader Matteo Salvini, sono candidati il Vice Ministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, Maria Cristina Cantù e la new entry di questa tornata elettorale Giuseppe Valditara, giurista ed accademico. Il Vice Ministro Morelli è convinto sull'esito delle elezioni e attacca. Sale e PD non hanno fatto nulla per Milano. Il Centro Testa prenderà un voto in più delle liste che afferiscono al Partito Democratico per una semplice ragione. Noi abbiamo fatto, non parole ma fatti. Lo abbiamo dimostrato con i numeri che abbiamo esposto in questa mattinata, peraltro troppe cose fatte, mi sono persino dimenticato di ricordare che abbiamo previsto un investimento per la M6 che dalla sinistra non solo è stravolta rispetto agli obiettivi che sono obiettivi generali di buon senso che danno un indirizzo e un tragitto della M6 che è stato tracciato oramai da qualche annetto, ma dall'altra parte la sinistra si è completamente dimenticata di questo argomento, se l'hai dimenticata nel cassetto, semplicemente perché non hanno aspirazioni. Noi abbiamo portato a Milano le altre metropolitane, abbiamo prolungato la M5 fino a Monza e gli altri toc toc, citofonare sala, citofonare PD che non sono riusciti a fare nulla per Milano in questi anni.